È tempo dei primi annunci in casa basket Gesam Gas Lemura Lucca in vista della stagione 2020-2021. Dopo l'estensione del contratto che legherà Francesco Iurlaro al club bianco-rosso sino al 2024, la società del presidente Rodolfo Cavallo ha annunciato altri due tasselli nella costruzione del roster che verrà. Giovanna Elena Smorto vestirà la casacca bianco-rossa anche nel prossimo campionato, l'undicesimo di fila in a uno per Lucca. Una conferma importante è quella della classe 99, autrice di una stagione positiva, essendo diventata un'arma tattica fondamentale nei meccanismi lucchesi. Insieme ad Alessandro Orzili e Silvia Pastrello, la cui riabilitazione sta procedendo nel migliore dei modi, il rinnovo di Smorto testimona il proseguimento di un progetto tecnico che prevede, come nello scorso campionato, l'abbinamento tra linea verde e cestista di esperienza. Il basket Lemura Lucca ha annunciato inoltre di aver perfezionato l'accordo con la guardia Francesca Romana Russo, che nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia di Palermo. Classe 96, la cestista Viterbese rappresenta una pedina molto duttile, in grado di ricoprire più ruoli nel quintetto bianco-rosso. Per la neo bianco-rossa, presente pure nel giro della nazionale italiana 3x3, Lucca sarà la terza tappa del suo cammino in A1, dopo battipaglia e appunto Palermo, con cui colse la promozione nella massima serie nell'annata 2018-2019.